buongiorno a tutti e bentornati impariamo oggi le tipologie delle frasi una domanda come stai cosa vuoi che cos'è che tipo di frase è una frase interrogativa inizia con la lettera maiuscola e termina con il punto interrogativo ho un mal di denti che tipo di frase è inizia con la maiuscola finisce con il punto è semplicemente una frase dichiarativa forse ho preso freddo vedete questo forse esprime un dubbio quindi è un po si è un'ipotetica un punto esclamativo complimenti auguri si chiama esclamativa allora grazie Grazie.